Da oggi prenotare visite specialistiche, attivare la carta sanitaria elettronica, stampare referti, pagare il ticket e ritirare presidi medici sarà più facile. Le 107 farmacie del sistema pubblico e privato presenti nella provincia di Arezzo offriranno questi servizi grazie a un nuovo accordo siglato da Federpharma che riunisce le farmacie private, CISPEL che riunisce quelle pubbliche e la ASL 8. Una collaborazione che da una parte permetterà di risparmiare tempo per gli spostamenti e per le file agli sportelli, specialmente nelle località più isolate e dall'altra permetterà risparmi per il sistema sanitario. Questi servizi la farmacia in parte, specialmente alcune farmacie, l'avevano sempre fatta. Diciamo che sono stati confermati ed ampliati questi servizi proprio per venire incontro alle mutate esigenze del cittadino stesso e degli assistiti. Attualmente sono già più di 60 le farmacie che garantiscono la possibilità di prenotare le visite al CUP e l'attivazione della tessera sanitaria elettronica, un numero che con il tempo è dunque destinato ad aumentare. In gran parte delle farmacie saranno posizionati dei totem o dei computer a esclusivo uso degli utenti per accedere con la propria carta sanitaria elettronica alla stampa immediata dei referti e delle proprie analisi. Il tutto dove ve ne fosse bisogno con l'ausilio di personale della farmacia appositamente formato. I farmacisti sono professionisti importanti nella rete per la tutela della salute, per la promozione della salute, per la lotta alle reazioni avverse da farmaci, che sono un aspetto importante, per promuovere l'aderenza alla terapia, perché interrompere una terapia è pericoloso nei pazienti fragili. E quindi noi vogliamo, scherzando diciamo, sfruttare la professionalità dei farmacisti per cercare di dare di più ai nostri cittadini.